ciao a tutti oggi prepariamo la crostata morbida con salmone filadelfia perfetta da servire durante un aperitivo con gli amici o una cena famiglia seguite le mie mani grazie a tutti 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 se non siete amanti della rucola potete sostituirla con insalata fresca e pomodorini invece il filadelfia può essere sostituito da qualsiasi altro formaggio spalmabile a vostra scelta grazie a tutti